Nelle passate settimane, Viaggio Danelli, esperto di gossip nonché ex concorrente del Grande Fratello, ha svelato un clamoroso retroscena su Julia Bruschi, attuale concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. L'ex GFino ha infatti rivelato che l'inquilina sarebbe stata denunciata dal suo ex compagno Simone Costa per avergli spaccato un bicchiere di vetro in faccia. Viaggio Danelli, una concorrente del GF è stata denunciata. Questa volta vi espongo i fatti in maniera seria. Non sto qui a ironizzare sul Grande Fratello, perché qui si parla di vita vera. Una concorrente del Grande Fratello è stata denunciata penalmente lo scorso 12 settembre, secondo me lei ancora non lo sa, dal suo ex attuale compagno. E, stata denunciata per una situazione veramente schifosa, ed è scritto agli atti, quindi è pubblica la cosa, ho letto tutto quello che è accaduto. Pare che lei abbia spaccato un bicchiere di vetro al suo ex attuale compagno, quindi questa ragazza quando uscirà fuori dalla casa, secondo me non sarà impegnata con ospitate televisive, autografi e serate e potrà godersi la popolarità dopo il Grande Fratello. Ma avrà a che fare con la giustizia, avrà tantissime rotture perché dovrà spiegare tante cose. Siccome ho letto la denuncia vi dico anche il nome. La concorrente in questione è Giulia Bruschi. Ebbene sì, signori, la denuncia è stata fatta presso il Tribunale di Lucca. Fuori avrà tantissime rotture burocratiche perché girerà per tribunali, e dovrà affrontare questa denuncia penale che le è stata fatta presso il Tribunale e la Questura di Lucca. Quindi è doveroso che il Grande Fratello metta al corrente questa ragazza perché lei pensa di stare bella e beata, e pensa che nessuno sa quello che ha fatto, ovvero spaccare i bicchieri in faccia un ragazzo che giustamente l'ha denunciata. Le parole di Danelli sono state poi confermate dallo stesso Simone Costa. Nelle ultime ore, il settimanale Nuovo TV ha rilanciato la notizia. Clamoroso al Grande Fratello. Giulia Bruschi è stata denunciata dall'ex compagno Simone Costa. In esclusiva a Nuovo TV l'uomo mostra la cicatrice sul viso, segno della ferita che, a quanto sostiene, gli è stata procurata dalla GFina poco prima che lei entrasse nella casa.